se a spellacchià i finocchi faccio vedere che devo fare oggi facciamo belli mia ciao facciamo i finocchi al forno con mozzarella e prosciutto allora adesso io li taglio così e poi gli do una sbollentata ma proprio una sbollentata poi l'asciugo bene bene e facciamo e poi vi faccio vedere una cosa proprio buona facciamo io la conosco molto bene questa cosa per quanto mi piace gittarella me la fa vero gittarella gittarellina va bene mazza che tende questi finocchi senti come profumano profumano sono i finocchiottoni belli grossi ecco qua vedete sono pronti allora io ho fatto bollire l'acqua poi ce l'ho messi dentro e l'ho fatti cuocere per 20 minuti ok adesso adesso vado a mettere un pochino d'olio qui sotto e metto ecco qua vedete intanto vi faccio sbircià qui quello che c'è e guardate questa è una ricettina proprio semplice semplice ma quanto è buona però è buona e che ve lo dico a fa lo devo dire dice lo gittare quanto è buona quanto è buona da uno a mille infinito infinito brava l'invenito ecco qua vedete gittarella adesso mettiamo un po' di parmigiano vedete andiamo a vedere ecco qua si guarda un po' ah 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 poi mettiamo qualche fiocco di mozzarella è tipo una parmigiana eh dei finocchi eccola qua vedete a noi piace tanto a noi ci piace quando la facciamo io la faccio pure il giorno di capodanno questa che buona però ci devo avere un po' di tempo eh dico la verità perché si fanno un sacco le cose beh però è capitata che l'ha fatta è è stata molto gradita altro che a voglia ecco qua vedete ecco fatto e adesso riandiamo ah mettiamo vedete ero scordata qualche fiocchettino di burro ecco qua ma proprio ecco qualche fiocchetto qua e là che vi pare a voi eh ecco qua giusto così ecco fatto ok poi mettete un po' di sale voi io non lo metto che mi piace proprio sentì però chi mangia saporito mettesse il sale cioè chi mangia il sapore del finotto noi perché comunque mangiamo sciapo e poi ecco insomma c'è parmigiano c'è mozzarella evitiamo di mettere sale ecco qua vedete ecco altro strato vai ecco altro giro altra corsa a posto andiamo adesso oppen ahiaia il coltello già così allora adesso rimettiamo parmigiano ecco fatto poi mettiamo aspetta un po' di questa mozzarella ecco qua oh oh tarta che roba rimettiamo le fette del prosciutto un po' di qua e un po' di là queste pezzettini sopra sì che buona che viene stupenda con questa pure veramente ragazzi fatela conquistate tutti perché veramente se ci avete ospiti piace ma anche se non ce l'avete non c'è problema ma fate per voi perché gildarella questa la fa gildarella infatti la fa anche quando non ha ospiti quindi no no io la faccio spesso questa a me poi mi piace proprio tanto specialmente quando fa freddo ecco solo ecco mettete c'era ste cosettine perché ecco fatto la cascata di parmigiano e vai pioggerella anzi diluvio di parmigiano sciacquo le mani vai 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 a sciacquate le manine vai guardate un po' qua che spettacolo ragazzi e che vu devo dire ecco qua io già mi immagino bella che cotta gildare è questa è certo allora adesso mettiamo qualche fiocchettino in de burro eccolo qua vedete qualche fiocchetto de burro un po' qui un po' lì un po' qua e un po' là perché ce vuole buono gli dà sapore pure il burro si è sciolto che meraviglia ecco buono questo si scioglie va dentro e gli fa fare quel bel sughetto gagliardo va bene va bene che si va qua pronta da infornare da mettemecelo tu due cosettine toglio così ecco qua voilà e adesso andiamo a fornare gildarella allora a 180 per un quarto d'ora poi 20 minuti a 170 160 ve regolate voi la manforna la crosticina sopra la manforna dai gildarella fumino eccoli qua vedete ecco qua mamma mia ecco fatto facciamo allora vediamo un po' qua guardate che roba io col col tè oddio non sento se no spettacolo di che profumo questo pure i bambini impazziscono ci vanno pazzi per questo i nostri perlomeno ecco qua vedete guardate un po' mamma mia guardate un po' vai qua ti è ecco fatto vedete ecco qua vedete mamma mia date un po' dove sta come ho perso eccolo ecco adesso è bollente allora quello che mi raccomando una volta che l'avete sbollentati asciugateli bene tamponateli perché sennò vi aggaccio un po' da qui magari te lo fa freddare perché io si li fate freddare li tamponate tutti quanti bene perché io stasera andavo di corsa e non l'ho tamponato l'ho solo scolato e vedi un po' da qui me l'ha fatta però fate come voglio un po' che sughettino c'è che c'entra quello è buono messo sopra se li tamponano è meglio va bene loro li fanno freddare spero che vi sia piaciuta questa ricettina e adesso ah ci fai l'assaggio volevo dire e no buono Gildare è buono ma poi guardate che bello che è buonissimo buoni 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 vi fate una tielletta di questo tiè vai ah piatto unico piatto unico quello è secondo e contorno insieme vai tanti baci belli dal cuore e spero che vi sia piaciuta questa bella ricetta a me mi è piaciuta ciao belli ciao tanti bacioni